Pechino Pechino resta il regno di Yusen Bolt. A sette anni di distanza da quell'Olimpiade cinese che segnò la prima affermazione del lampo giamaicano, la Cina torna a salutarlo campione del mondo. Bolt ha vinto correndo ai 100 metri in 9,79 secondi, un centesimo meno di Justin Garlin, il cui miglior tempo nelle semifinali ha probabilmente contribuito a determinare il risultato conclusivo. Le ansie di Garlin, quindi la paura di vincere sommata a quella di perdere, la prima che dura 80 metri, la seconda che subentra e manda tutto all'aria nei metri finali. E lì la chiave di lettura di una finale più avvincente per l'attesa che per i valori tecnici espressi, il centesimo che lo ha separato da rivale americano e il margine più esiguo tra l'oro e l'argento nella storia dei mondiali. La nuova icona della Giamaica diventa quindi l'atleta più medagliato nella storia dei mondiali, con 11 podi distribuiti sull'asse Osaka, Berlino, Daghe, Mosca e Pechino. Per Bolt ora arrivederci a Rio de Janeiro tra un anno, per quella che sarà probabilmente l'ultima puntata oltre che la rivincita.